Avrebbe architettato un meccanismo fraudolento tale da consentirgli di percepire indebitamente dalla GEA, l'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura, somme per 500.000 euro. Con l'accusa di truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea, un imprenditore di 64 anni di Boa Marina è stato arrestato dalla Guardia di Finanza della tenenza di Melito Portosalvo. Sono stati interdetti per due mesi dall'esercizio di imprese invece i due figli titolari di altrettanti aziende agricole operanti nel basso Ionio Regino. Oltre un anno di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che hanno permesso inoltre alle fiamme gialle di accertare l'assunzione di 53 falsi braccianti agricoli. Ghostlands, terre fantasma, il nome dell'operazione ed in effetti a detta degli inquirenti il sistema truffaldino messo in atto sarebbe consistito nella creazione ad arte di falsa documentazione consistente in fittizi, contratti di comodato attestanti la disponibilità legale di terreni in capo agli agricoltori consentendo loro così di vantare il diritto a percepire i relativi finanziamenti pubblici. In realtà i terreni risulterebbero di proprietà dei comuni di Bova e Bova Marina. Escamotage che non solo avrebbe consentito al sodalizio criminale di percepire mezzo milione di contributi dalla GEA ma allo stesso tempo di percepire indennità di lavoro dall'Inps per 195 mila euro. Non solo truffa aggravata e falso materiale tra le accuse contestate dagli inquirenti anche la diffusione di malattie agli animali con pericolo per il patrimonio zootecnico. A completare il bilancio il sequestro preventivo di beni per 300 mila euro consistenti in due immobili ad uso abitativo e sei terreni agricoli per oltre 45 ettari siti a Bova Marina.